Ciao ragazzi bentornati con le ricette dell'amore vero. Io sono Claudia Enni e oggi ho preparato per voi una ricetta molto golosa e super light, perfetta per la prova costume. Sto parlando degli shirataki con crema di zucchine, avocado e alici. Andiamo subito a vedere cosa occorre per realizzare questa ricetta. Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare questa ricetta. Potete trovare maggiori informazioni giù nell'info box oppure nelle schede informative. Per prima cosa lavate e pulite le zucchine e tagliatele a rondelle sottilissime di circa un millimetro. Prendete una padella, scaldatela bene, aggiungete un filo d'olio e unite le zucchine tagliate a rondelle. Versate poi le alici sott'olio, sgocciolate e tagliate a pezzettini piccoli. Mescolate per bene, aggiungete l'aglio, io ho utilizzato quello in polvere perché lo trovo più digeribile. Amalgamate poi tutto. Versate poi mezzo bicchiere d'acqua, chiudete con il coperchio e fate cuocere fino a far ammorbidire le zucchine. Nel frattempo cuocete gli shirataki in abbondante acqua bollente. Gli shirataki sono perfetti per chi ha dieta perché hanno veramente pochissime calorie e sono privi di grassi, di glutine e di zuccheri. Prendiamo il frullatore, versiamo al suo interno le zucchine appena cotte, ne lasciamo da parte qualcuna per la decorazione finale. Aggiungiamo il mezzo avocado a pezzettini, mi raccomando scegliete un avocado molto maturo. Aggiungiamo il latte scremato ed un pizzico di sale. Uniamo poi un cucchiaio di sesamo tostato e chiudiamo facendo frullare il tutto fino a formare una crema omogenea. Versate poi lo zenzero, io ho usato quello in polvere, e il peperoncino. Mescolate per bene e se trovate la crema troppo densa potete aggiungere qualche cucchiaio di acqua bollente della pasta. Pronta la salsa di zucchine avocado e alici? Potete versarla sui shirataki, mescolate, mantecate e impiattate. Ed ecco pronti i miei spaghetti shirataki con crema di zucchine avocado e alici. Una vera golosità con pochissime calorie, perfetta per la prova costume ma anche per chi vuole avere una golosità a pranzo ma non vuole pensare alle troppe calorie. Vi raccomando ragazzi condividete questa ricetta e scrivetemi un commento per dirmi cosa ne pensate. Io vi mando un bacione, alla prossima, ciao a tutti! Grazie a tutti!